Sesi, buone notizie per l'Abruzzo e per i suoi viticoltori. È stato firmato proprio di fronte al sottoscritto nella stanza del Signor Ministro il decreto che riconosce lo stato di calamità, riconoscendo la correttezza anche della documentazione, la completezza della documentazione che la Regione Abruzzo ha recapitato al Ministero. Viene riconosciuto quindi lo stato di calamità naturale che verrà pubblicato entro 15 giorni in gazzetta ufficiale, decorreranno poi 45 giorni nel corso dei quali le aziende potranno rivolgere alla GEA la documentazione con la richiesta del risarcimento del danno. Nel frattempo scattano in automatico due anni di sospensione dei mutui. Insieme al decreto di riconoscimento dello stato di calamità il Ministro ha anche firmato un decreto che esenta questi aiuti dalla notifica all'Unione Europea per gli aiuti di Stato. Che cosa significa? Significa che non dovremo passare sei mesi a negoziare con la Commissione Europea la possibilità di erogare questi aiuti ma vengono riconosciuti direttamente dallo Stato italiano grazie a questa esenzione dalla notifica. Si è trattato quindi di un intervento tempestivo, efficace, importante.